Io la chiamo un'emorragia, un'emorragia di posti di lavoro che dal 2010 ci vede ogni volta coinvolti in queste procedure. Parole amare quelle di Antonio Perseo della Filtem CGL, quello scritto ieri in regione a Pescara con 15 nuove procedure di licenziamento e solo l'ultimo capitolo che riguarda Labrioni, azienda che negli ultimi 12 anni ha perso 700 posti di lavoro nei tre stabilimenti di Penne, Montebello di Bertone e Civitella Casanova. Una situazione insostenibile e uno scontro che periodicamente si riapre tra sindacati e la proprietà francese del gruppo Kering. Al tavolo, oltre a CGL Cislewil, la regione rappresentata dal consigliere Leonardo D'Addazio, tra l'altro ex sindacalista, il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci, l'ispettorato del lavoro e l'Ampal. Dalla riunione di ieri è uscito un accordo che prevede la riduzione del numero degli esuberi dai 24 presentati a 15, ma l'insoddisfazione è palese, ancora Perseo. Purtroppo per loro, dopo il 20 gennaio, loro fino al 20 gennaio hanno la possibilità di accettare un incentivo all'esodo con la non-opposizione di 14.250 euro. E dopo il 20 hanno 120 giorni di tempo l'azienda A per mandare l'elettricenziamento. Ovviamente fino allora cercheremo di fare di tutto per cercare di salvaguardare anche la loro posizione. La regione si è presa l'impegno dopo questa procedura di fare un tavolo per quanto riguarda la formazione e la ricollocazione anche dei 235, perché non ci dimentichiamo che al 31 dicembre di quest'anno usciranno dall'Abrioni 235 persone, quindi il saldo negativo è di 250. Sull'impegno della regione sentiamo Stefano Di Crescenzo, Femme Cacisle. Quello che la regione ci ha prospettato è di incontrarci nel mese di gennaio per vedere quali sono le competenze dei lavoratori usciti dall'Abrioni e cercare di fare un match rispetto alle aziende che nel territorio cercano personale della moda. E dopodiché di cercare di rendere allettanti queste assunzioni attraverso dei contributi, dei finanziamenti che vuole mettere in bando all'inizio dell'anno prossimo. Le faccio anche questa domanda, perché se è vero che il marchio Brioni è un marchio conosciuto e anche riconosciuto non soltanto in Italia ma anche all'estero, perché periodicamente la proprietà mette in atto queste procedure di licenziamento? Che cosa c'è che non va? Beh, è un discorso molto complicato che comunque vogliamo affrontare al più presto con l'azienda. Noi il 23 ci incontreremo con l'Abrioni per capire il problema residuo, quante persone realmente non hanno accettato la mobilità volontaria, ma subito dopo ci dovremmo sedere per capire come l'azienda si vuole organizzare per andare avanti. Comunque occorre un piano industriale, magari farebbe dormire, tra virgolette, sonni tranquilli un po' di più. Occorre sicuramente un piano industriale e tanto, tanto impegno.